Siamo qui con l'assessora Sabrina Alfonso, assessora all'ambiente, politiche agricole e rifiuti del Comune di Roma, benvenuta su Radio Colonna. Eccoci, benvenuti a voi. Allora, siamo qui a Castel di Guido, in una tenuta bellissima e in un paesaggio davvero bucolico, vero? Bellissimo, qui si capisce veramente la vocazione agricola di Roma, questa è la più grande azienda, in realtà proprietà della regione, che gestisce il Comune. È un'azienda di 2000 ettari, è un'azienda che ha la produzione di latte, produzione di carne, produzione di un grano con una grande capacità di riduzione degli zuccheri. Quindi adesso sta partendo un progetto con l'associazione dei diabetici. Ci sono due progetti sociali, uno con i ragazzi autistici e l'altro con diverse fragilità. È in luce quello che vorremmo far diventare, quindi tutte le politiche di sviluppo agricole che questa azienda vuole mettere in campo, veramente Roma agricola, si svilupperà a partire da questo grande polo. Grandissima tenuta, un fiore all'occhiello, addirittura ci sono i butteri. Ci sono i butteri che in realtà spostano le vacche maremmane da un pascolo all'altro. È una cosa bellissima, sembra veramente di non stare a Roma. Questa è una tenuta che è all'interno del parco del litoraneo romano. Oggi abbiamo fatto questo grande convegno, è stato il primo con tutto ciò che si muove intorno all'agricoltura romana e sono nati veramente dei progetti che secondo me possono cambiare la percezione dell'agricoltura a Roma nel corso di questo mandato. Intorno al mondo agricolo di Roma si muovono tante realtà e molte delle quali cooperative, associazioni, imprese, sono quelle che hanno mantenuto le terre pubbliche e che avevano bisogno di essere messe insieme. Molto felici oggi che ci sia una volontà politica forte su questo settore. Un settore che può dare assolutamente intanto una vivibilità diversa, cioè vivere in una metropoli che è una metropoli che ha però in sé la campagna. Può dare assolutamente posti di lavoro dentro questa città, può dare uno sviluppo sostenibile e può lavorare insieme alla food policy per garantire anche le politiche del cibo sia di consentire a tutti di mangiare bene e quindi combattere le disuguaglianze a partire da quello che si mangia e può garantire, l'ho chiuso oggi l'intervento con questa frase, da una parte di mangiare quanto più cibo prodotto dove noi lo consumiamo e di smaltire i rifiuti laddove vengono prodotti. Può essere un grande asset per il turismo, un turismo più slow, un turismo che va oltre i tre monumenti di Roma. In questa azienda come nel Parco della Caffarella, come in tutte le altre tenute ovviamente ci sono reperti archeologici, ci sono reperti archeologici importanti. Immaginiamoci un turista che viene a Roma, che dorme in un agriturismo romano e che va a Roma, nel senso va nella città urbanizzata, a vedere i monumenti. Il progetto parte dal presupposto che il Comune di Roma vuole riacquisire la proprietà dell'azienda che attualmente è della regione attraverso un contratto di affitto. Ripristinare una titolarità sul bene è fondamentale per fare una programmazione pluriannale che in agricoltura è il presupposto principale.